È il mercato dove le buone nove con la sua compagna si recano a fare la spesa dove hanno conosciuto Alessandro e Deugenia, a cui hanno dedicato un sonetto ricambiato con la qualità dei loro cibi. Questi sono i mercati oggi, ma una volta non era così. Il contatto sembra quasi più diretto. E proprio per ricordare questi mercati rionali, le buone nove ha scritto questo sonetto, naturalmente in lingua domanesca, per il mercato di una volta. E andiamo donne, andiamo su caprate eh, tagliate che russi o anche i meloncini, che bene me la persi che addorate con ste cerase fatte le orecchini. E fave solo a maggio trovavate. Natale, bruccoletti e mandarini. I combitori al sole dell'estate. E con l'autunno l'uva vaghi fine. Mo cresce tutto al chiuso della sera. Aranci al mare? Boni panna azzurzo. Fra volo l'ottobre mi fanno primavera. E figo a marzo? Edda, non fa lo struzzo. O strido di settembre, lo sai com'era? Capate il meglio figo derby, cunzo! Ciao!